Ciao ragazzi! Avete mai visto dei Nerf così tanto piccoli? Io no, io no Sono praticamente i Nerf Microshop di Fortnite Abbiamo il micro pompa tattico e il micro lama Allora, questo qua si chiama esattamente Micro TS Tactical Shotgun E questo qui invece è micro lama, quindi lama Poi ce n'è un altro che si chiama Micro RL Che sarebbe Rocket Launcher Ragazzi sono esattamente tre modellini E assolutamente questa è una cosa assurda Non ci crederete Ma li trovate in edicola Adesso li unboxiamo e li proviamo Ok, allora Cominciamo col micro Fugire a pompa tattico Ah, una rivista, ok Allora, ecco la nostra rivista Enco The Originals Il magazine È di D'Agostini E costano 12,99 l'uno Abbiamo uno squalo bianco verso la Vespa di Mare Cioè la medusa più forte al mondo Più venenosa al mondo Qui abbiamo Cos'è questo? Guinness dei primari? È una patola Ecco di qui Qui vi spiega come funzionano Si inserisce il dardo Si tira la vetta E poi si preme il grilletto Perfetto Ora cominciamo Trottolino Mamma mia Apriamo C'è lo scotch Apriamo Perfetto Perfetto Due E tre Perfetto Ora Ti tiene così Molto Aspetta che forse qua Ah no Ok È anche abbastanza comodo Vediamo Ma ha una potenza sto cosa Ok Ragazzi guardate Si inserisce uno dei due dardi Che trovate nella confezione Ok Poi si tira la levetta Con forza Ok E poi Si preme il grilletto E il colpo Vola a chilometri e chilometri Eeeh Tac Tico Ok Ora apriamo il lama Ok 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 Grazie.